Musica Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale Eh sì ragazzi, siamo tornati con un altro episodio di Paul Simulator Patrol Officer Ragazzi, dove ci avevamo lasciati nello scorso episodio di Patrol Officer Dove ci avevamo lasciati dove avevamo sbloccato nuove cose Ma soprattutto nuovi distretti e nuove zone della città Quindi ragazzi, oggi sicuramente andremo a fare con il nostro agente di polizia Aaron Seali Questo agente di polizia che sta crescendo, sta facendo carriera, sta facendo multe Ragazzi, arresti a go go, signori, quindi l'avete visto nei scorsi episodi Quindi tanta roba ragazzi, il signor Aaron Quindi abbiamo sbloccato nuove parti della città Hanno fatto anche nuovi aggiornamenti Il gioco è molto aggiornato frequentemente ragazzi Lo stanno aggiornando di continuo È uscito un altro aggiornamento interessante Dove vanno a migliorare anche le auto di custodia Quando noi, nel senso, arrestiamo qualcuno Non vengono più col furgoncino Da quello che ho letto dovranno venire con delle volanti Delle pattuglie, con delle celle di detenzione nel lato passeggero Quindi nei posti dietro Quindi stanno facendo tanta roba Tante novità, tanti aggiornamenti Quindi ragazzi, è un gioco molto aggiornato E ve lo consiglio ovviamente Lo potete trovare utilizzando il mio link di Instant Gaming sotto in descrizione O se no, sulla piattaforma Steam Lo troverete questo gioco un po' dappertutto insomma Ragazzi, grazie ancora per il supportazzo Che mi state dando sotto in ogni video Ragazzi, grazie Eppure quando non pubblico, grazie veramente ragazzi Vi invito sempre a lasciare un bel pollicione in su Iscrivete al canale E attivate la campione per non perdere il video Nulla Ragazzi, iscrivetevi tutti i link Sono gratuiti, non vi costa nulla Quindi fate un salto Detto questo ragazzi Noi andiamo a continuare A caricare la nostra partitazza E vediamo un attimo Dove ci vogliamo spostare Che abbiamo sbloccato Questa nuova parte della città E vediamo un po' Dove vogliamo andare oggi A fare qualcosina Con il nostro Aaron Seali Questo centro di polizia Che incute terrore Nelle città In questa città dove siamo noi Allora, abbiamo nuovi turni disponibili Allora, noi avevamo sbloccato Questa parte qui ragazzi Vedete? Avevamo sbloccato questa parte qua Pattulli now Tutti gli stessi sbloccati Disponibili Guadagno 4 cistelle Vabbè Era così qua Avevamo sbloccato la Jefferson Quindi abbiamo sbloccato il quartiere dei Jefferson Perché noi stavamo prima Se vi ricordavate Stavamo dall'altra parte insomma Stavamo Abbiamo fatto più Quest'altra parte delle città Ma abbiamo sbloccato questo nuovo Insomma Questo nuovo turno In questo nuovo quartiere Jefferson Quindi vedete Dobbiamo fare Accumula steli di servizio Per sbloccare Vabbè Questo sappiamo Dobbiamo accumulare punti di esperienza Durante il servizio Quindi di arresti Molti E molte E anche Fermare le auto Comunque Ovviamente Non so che distretto stiamo A che pattuglio ci daranno Quindi ragazzi Detto questo Io proprio Direi di buttarci Proprio qui In questa pattuglia E vediamo un attimo Ragazzi Cosa dobbiamo fare Visto che comunque Siamo andato molto 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 avanti In questo Con questa serie Con questo Con questo titolo Insomma del gioco Vediamo un po' Che il nostro Aaron Seali Ragazzi Sta accumulando esperienze Molti 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 ne parlano bene Quindi Ragazzi Stiamo facendo bene Il nostro lavoro Lo facciamo Facciamo le multe Facciamo i verbali Chi dovremmo lasciare andare Lo lasciamo andare Quindi Diciamo che comunque Vabbè Alziamoci dalla nostra scrivania Ok Siamo su questo nuovo distretto Ovviamente qua La zona degli uffici È sempre uguale Insomma Salve collega Salve salve Allora mettiamoci il nostro cappellino Vi ricordo ragazzi Per chi giocate Non sapete come mettere il cappello Con il tasto della numerazione Numero 9 Non quello che troverete A sinistra Delle vostre Delle vostre tastiere Ma quelli in alto Dove sono Funzione 9 Sarebbe F7 F8 Sotto Quindi quelle cose lì Lo troverete Ok Andiamo avanti Oh Vedete Che bella cittadina Ragazzi Però Non vedo la mia auto Scusa Siamo Ma che siamo Appiedati Scusa Ma che ci dà Nuovo quartiere appiedati Mi scusi Cioè tutte esperienze Che abbiamo fatto Mi dai cose a piedi Pattuglia appiedata Oggi E vabbè Eee Non so il perché ci dà la pattuglia Boh non lo so Perché forse è un nuovo quartiere Non ci conosce nessuno Ci dobbiamo far conoscere Va bene Quindi allora Noi rifacciamo Le solite cose Che dobbiamo fare Comunque il distretto è cambiato Cioè siamo comunque È una nuova quartiere Di zona Quindi Ormai Ci hanno trasferito In questa zona Quindi Vabbè ragazzi Noi siamo Oggi facciamo il nostro servizio Iniziamo Quindi dobbiamo fare Queste otto ore Di servizio Quindi siamo Fiscali Iniziamo il nostro servizio Quindi possiamo fermare tutti Controlliamo ovviamente I parchimetri Le auto E tutto quanto Quindi Vediamo se Questo c'ha L'assicurazione valida Ah ah Multa scaduta Assicurazione Quindi 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 c'è Assicurazione scaduta Quindi andiamo qui Trovo la persona cercata Ma se sono a piedi Mi scusi Ma guarda Io non lo so Allora interagisci Allora Il parcheggio irregolare Eh no Targa scaduta Targa scaduta Esatto C'ha la targa scaduta Quindi facciamo un bel Verbalino Ragazzi Iniziamo il servizio Subito con una multa E più ragazzi Non so se possiamo Vabbè Il carattere Si no Dai Mi sembra un po' troppo eccessivo Ah 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 Questo sta parcheggiato Un po' a cazzo Di pischio Allora Intanto controlliamo Sempre la targa Ovviamente 2021 Perfetto Noi siamo anno 2020 Nel gioco ragazzi Quindi Noi ci dobbiamo basare Va nella data E l'orario del gioco Eh signori Quindi Occhio eh Perché uno può dire Eh ma guarda che siamo 2022 No Nel gioco siamo 2020 Signori Allora Questo ci ha parcheggiato Un po' male Quindi Andiamo qui Oggi ragazzi Un po' torniamo a fare Un po' quello che facevamo All'inizio Insomma Quindi Posizione di allineamento Sul marciapiede Un altro verbalino Un altro verbalino Un altro 250 dollari Eh sì Quindi Questo facciamo così Vediamo se questa C'è la patente C'è la cosa valida Qua 2021 Vediamo se ha pagato Il parchimetro Il parchimetro è valido Andiamo qui Andiamo a controllare Scusi Un altro Sto attraversando Perdonatemi Vi ricordo che possiamo Anche controllare Le persone Se vediamo qualcosa Di sospetto Quindi Questo è valido Il parchimetro Come ce l'ha Eh questo Sta parcheggiato Un po' male Però Questo parcheggiato Un po' male Però Diciamo Che la Che la cosa È valida Il parchimetro Come ce l'ha Valido Però sta parcheggiato Un po' Vedete Un po' fuori Dalla Non sta tanto allineato Quindi potremmo Fare un bel Il varbalino Vediamo un po' Sulla carreggiata È sulla carreggiata Effettivamente Il mezzo Quindi Multarella Eh sì E va bene così E andiamo avanti Ragazzi Andiamo avanti Oggi Battuglia Appiedata Questi servizi Questo nuovo quartiere Dove ci hanno trasferito Oggi Il nostro Aaron Seali Vi ricordo che possiamo Fermare anche la gente Se vediamo qualcosa Di sospetto O qualcuno Che fa qualcosa Che non deve fare Tipo questo Perché Mi scusi Perché sta correndo Mi scusi Mi scusi Ma perché stava correndo Occhio eh Quindi possiamo fermare Anche le persone Un po' Che buttano qualcosa O che stanno bevendo Troppo alcol O che alzano Un po' troppo il gomito Cioè comunque possiamo Possiamo fare Determinate cose Mo' Ci hanno chiamato Ci hanno passato Una chiamata Dalla base operativa Però ragazzi Noi come facciamo Siamo a piedi Cioè possiamo Cercare la persona Per tutto Questo quartiere A piedi Insomma Però Oggi Pattuglia a piedi Quindi controlliamo I parchimetri Controlliamo Le tardi Controlliamo Questo quanto Tanto che sta a fare Che è il vecchio Ragantiere Scusi che sta vedendo Qualcosa Si mi dica Signorina Mi dica Ehm Vabbè Lascia andare No ma non ho capito Che mi aveva fermato Mi sa Mi sa che voleva Dell'indicazione Perché Alcuni cittadini Ci possono chiedere Anche indicazioni Se vi ricordate Nell'ultimo episodio Dove avevamo sbloccato Anche un nuovo aggiornamento Nel senso Che possiamo dare indicazioni Ai cittadini Se ce lo richiedono Ovviamente Allora ragazzi Controlliamo queste due auto Qui Corriamo un attimo Questo c'ha La targhetta Dell'invalido Vedete ragazzi C'ha la targhetta Dell'invalido Quindi in teoria Però non so se Il parcheggio È allibito A zona invalida Quindi Non lo so Però Vediamo un attimo Se questa La macchina Sta parcheggiata Un po' male Questa Comunque vedo Vediamo un po' La targa è Giugno 2020 Noi siamo a Aspetta Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Ok Quindi questa vale Fino al mese Prossimo Perché Noi siamo Siamo nel mese Di maggio Siamo nel mese Di maggio Quindi C'ha ancora un mese Di 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 Ma guarda Quella dove ha parcheggiato Eh Divieto di soldi Divieto di soldi Sono indicati I cartelli rossi Il parcheggio Possi Nell'area Così Quindi ragazzi Dove diamo One zone Non stopping Sono divieti di sosta E quindi ragazzi Adesso Sono volati Ci pediabedi Sanno cazzi Amare Intanto Vediamo un attimo Pura La patente Ce l'ha Però C'è No patente L'assicurazione Comunque è valida Però Però Hai parcheggiato Su una zona Un po' Quindi Facciamo Divieto di sosta Quindi Multarella Verbale Divieto di sosta Questi sono anche punti Sulla patente E più C'è la rimozione Ragazzi Del mezzo Perché è un divieto Di sosta Dove non si può sostare Quindi c'è anche il C'è anche il Cosa Ok ragazzi Aspettiamo il carattrezzi Eh ragazzi Siamo fiscali Siamo fiscali Controlliamo anche Anche queste altre auto Qui Ormai che ci Ci troviamo Ok questo 2021 Ancora un anno Il parchimetro è valido Il parchimetro è valido Perfetto Eeeh Vediamo un po' Anche queste qua Vediamo un po' Sì furgoni Questo 2021 Pure Mmm Questa c'è la targa qua Vediamo un po' 2021 Perfetto Il parchimetro è pagato Ok Aspettiamo il carattrezzi Che dovende Arriverà Boh Questa cazzo Se lo caricherà Da solo Il carattrezzi arriverà Eeeh Noi andiamo a vedere Un attimo anche Quest'altra qui Qui c'è la zona Non parcheggio Praticamente No parking Qua ragazzi Non si può parcheggiare Dalle 8 Alle Alle 12 Quindi diciamo Che non si può parcheggiare Però il tempo Non è Quindi non si può parcheggiare Qui diciamo Che il parcheggio Qua C'è Usa i posti di controllo Per fermare Veicoli Sì ma come ci vado Se non c'ho un'auto Mi scusi Ma che Ma che Ma mi passano chiamate Che oggi C'ho il servizio a piedi Scusate Come ci vado Flutto Faccio Alla Goku Faccio C'è scusatemi Questa ha parcheggiato Un po' In mezzo alla carreggiata Quindi multarella Multarella Pura questa Allora Andiamo qui No parking Dalle Dal free day Quindi non si può parcheggiare Venerdì No free day Mi sa lunedì era O venerdì Mi sa Un giorno a settimana Mi sa venerdì o mercoledì Non si può parcheggiare Dalle 8 di mattina Fino a mezzogiorno Insomma Quindi Allora Posizionamento Sulla carreggiata Un bel verbalino Ragazzi Quindi andiamo a cumulare Esperienza così Oggi Ma come meno 5 Scusami Ma che mi si pia Per culo Ma se sta sulla carreggiata Ma guarda Va bene comunque Comunque sto gioco è matto Ogni tanto Va bene Vabbè Andiamo avanti ragazzi Andiamo a fare I nostri controlli Multarella Verbali Di qua e di là Vedo Vedo già una macchina Con le ruote Madonna fa un casino Fa quell'auto là Vediamo un po' Anche questa zona Ragazzi Quindi Oggi il cucino Oggi controlliamo Le pattuglie appiedate Fa un casino Quell'auto Madonna mia Non so che cosa Non so se possiamo Ovviamente Fermare le auto C'è nel senso Se possiamo fare Anche chiamate Di incidenti Ma penso di no Madonna quando fa rumore St'auto Ok Questa però Anche se c'è Il target Invalidi Mi dispiace Ma La macchina È sul marciapiede Ragazzi Quindi Non rispetta La legge Quindi Multarella Mi dispiace E Diamo pure Questa qua L'assicurazione È valida Ha pagato Il parchimetro Eh 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 Vorrei guardare Di là C'è le ruote Sopra là Quindi facciamo Una cosa Veloce 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 Giugno Questo C'ha Ancora Un Eh però C'è il parchimetro Ah salve Salve Ah vedi Possiamo anche salutare Le persone che ci salutano Figo Figo Questa c'è il parchimetro Scaduto Quindi Parcheggio No Divieto Dove era Parchimetro scaduto Quindi verbalino Parchimetro scaduto Eh sì ragazzi Verbali Aspetta che mi sta un attimo Chiedendo Mi dica Sì signorina Arrivo subito Mi dica Da indicazioni Vedete possiamo dare Indicazioni Che ci ha chiesto Indicazioni Scusi Sto cercando Se il building Puoi dimmi Sarà un negozio Eh certo Certo Conoscro il posto Signorò lo posto Sulla mappa Non facciamo figure di merda Aaron eh Un attimo Che prendo lo smartphone Sarà questo Guarda qui Ma prego Signorina Prego Vedi possiamo dare anche Indicazioni alla gente Quindi Tanta roba ragazzi Quindi tante migliorie Stanno arrivando Tantissime Allora questo abbiamo fatto Il verbale Qua facciamo anche Il verbalino Questa patente È valida Sicuramente è valida Però È È sta parcheggiata Un po' male Quindi ragazzi Mamma mia Questo Sto pagando soldi Oggi con noi Tante multe Verbali A go go Non finire E niente Quindi andiamo avanti La nostra zona Che è successo Fammi vedere Non è che vedo Tante bottarelle Ma la signora Non vedo tante bottale All'auto Comunque Frenate Non vedo niente Vabbè Ascoltiamo prima Un attimo Questo signore Salve Che è successo Allora intanto Vediamo che succede Sto andando Divendendo un incidente Non riesco a pensare a nulla Ok mi dà Una patente Per favore Eh ragazzi La prassi Beh a meno Andiamo a guadagnare Più di esperienze E facciamo questa chiamata Possiamo subito Passare oltre Allora La patente è valida Nico Che Con Nico Che abbiamo un po' L'assicurazione L'assicurazione è valida Va bene Ok Un attimo Che vado Vabbè Resti Allora Faccio anche un alcol test E sai La prassi Per l'incidente Soffi Eh la prassi Abbiamo a fare ragazzi Uuuuh 1 e 2 Risultato 12 Vabbè Per il momento Resti un attimo qui Eh mi sa che Che sta ubriaco Il signore Mi dica signore Che è successo Non so dire Che è successo A gente Eh va bene Però Vabbè mi da Una patente Il rapporto è sufficiente Già Va bene Però noi Contro Allora La patente è valida La signora Corrisponde E va Anche Anche L'assicurazione Perché Scade il 30 Giugno 2020 Noi siamo A maggio Vi ricordo Tu me la vendi Quindi Ok La patente va Tutto valida Le faccio anche a lei Un e il chilimetro Il signore 12 Il signore Rischia la patente Rischia anche una multa Per eccessione Eh la madosca Abbiamo avuto tutti Qua Eh Allora qua Già ho capito Va bene Allora facciamo una cosa Signore Intanto Multa Guidatore No Condotta di guida Ehm Ma scusa Non mi posso far la multa Per Eh ho capito Ma questo sta con Come si dice Con Ecco Guida in stato Di ebbrezza La riguarda il resto Per aver guidato In stato di ebbrezza Eh si ragazzi Purtroppo si Eh quella qua 12 Quell'altra 15 Eh scusa Che state a fare ragazzi Eh Eh mi dispiace Mi dispiace Vi chiedo un trasporto Eh raga Quell'altra 12 Quell'altra 14 Scusa Hanno fatto una cosa Ad un incidente Ok Allora Intanto lei resti qui Signora Signora Anche lei Signora Signora Allora Intanto le consegno Il Cosa del rapporto Però anche lei Signora Un rapporto piuttosto scarno Eh allora signora Eh scusi Guido è stato di ebbrezza Eh si sposa un marciapiede Anche lei Per favore Eh si Eh scusa raga Guido non è stato di ebbrezza Ma che stanno a fa' Eh Please un cazzo Ok mi sa che è arrivato Ok è arrivato il collega Allora ragazzi Facciamo rimuovere Intanto ispeziamo il veicolo Controlliamo Visto comunque Che sono stati arrestati Possiamo farlo Noi siamo Noi stiamo basando Le leggi americane Ragazzi Pistola addirittura Chiamo un carroattrezzi Ok Ragazzi Ispezioniamo anche L'auto di questa signora Ok E raga E chiamiamo un carroattrezzi Per far portare via Questi mezzi Ok raga Aspettiamo un attimo Che arrivano i carroattrezzi Aspettiamo qui E ragazzi E questi Purtroppo noi siamo In basato le leggi americane In stato di ebbrezza C'era l'arresto Ma anche in Italia C'era l'arresto Comunque Insomma Quindi Qua Qua c'è va la pistola Tutto quanto Ma Ragazzi Noi abbiamo fatto I nostri controlli Tanta roba Comunque la gente Ci riconosce Comunque noi stiamo Pattugliando Comunque diamo Protezione Comunque alla comunità Si fermi Ma guarda Non ti preoccupare Non ti preoccupare Aprendo E vattene Ma guarda Cattura il ladro Guarda quella criminale Ci serve un agente Si fermi Ma guarda Si fermi Ti tesero Fermati Fermati Ti ho detto Ti devi fermare Perquisisci Allarghi Allarghi Guarda Dammi il portafoglio Hai recuperato Il portafoglio rubato Perquisisci Il proprietà Allora Allora Ispeziona Allarghi Ancora All'altra Criminale Vediamo Che cosa Nascondi Ancora Un po' Di plastica Vabbè Intanto mi dà Un documento Forza 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 Criminale Abbiamo assistito Un furto In diretta Questa persona Sembra Arrabbiata Non lo so Andando Furto di portafogli Allora Io L'arresto L'arresto Per Furto di portafogli Eh si ragazzi Ha rubato un portafogli Andiamo Siamo Ah Addirittura Stiamo scherzando Dai Mandatemi Un mandato Di Mandatemi Una Per questa Criminale Forza Venga Signora Venga Si sposta Sul marciapiede Forza Sta criminale 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 Oh intanto Abbiamo Altri 65 Signora Eccomi qui Arrivo Arrivo Sono subito da lei Visto la polizia Fa il nostro effetto Signora Salve Eccola lei Signora Ecco a lei Sembrava essere su un film Ma poi Eventivamente è vero Consegna Il rapporto Sul furto Ecco Ecco il suo rapporto Che ne so così A meno Ecco a lei E Può andare Tutti in regola Può andare Riveci Buongiorno Eh si ragazzi Noi continuiamo Il nostro pattugliamento Quindi abbiamo fatto Il nostro dovere Quindi abbiamo Difesa comunità Quella quella Criminale Rubato il portafoglio E' andato in galera Quindi Eccola Mi sa che la collega Passa proprio adesso Con Ok Vabbè Ecco ragazzi Continuiamo A pattugliare Allora Controlliamoci Anche queste Macchine qua Controlliamo Tu Ma qua Perché si sono fermate Che è successo Ok Questo Va Il parchimetro E' valido Tutto valido Ok Continuiamo Il nostro C'è una macchina Lì da fare Un verbalino Verbalino Vediamo un po' Che ha fatto Sta macchina Un po' tutta rotta Sta macchina Madonna mia Che ha fatto Parabrezza rotto Non so se si può fare Una Parcheggio Su Posti riservati Agli autobus Troppo vicino Alle strisce pedonali Ah Forse la potevamo Fare quello Vabbè Vabbè Ok ragazzi Il parchimetro Ce l'ha valido Sì vabbò Se è rotta Non possiamo farci niente Ok L'assicurazione La targa è valida Ok però Sta parcheggiato Con Sul marciapiede Quindi un bel verbalino Il turno è terminato Ok Ok raga Il turno è terminato Torniamo al nostro distretto Salve Mi dica Mi dica Ragazzi Noi dobbiamo dare sempre Indicazioni al cittadino Secar Group Potrebbe indicarmi Dove si trova Certo Si trova qui Fammi il mio Non facciamo figure di merda Tutto qui Diciamo Noi Vabbè Vada qui signora Ma figurati Dobbiamo andare Tipo a un'altra parte Vabbè Non mi fa ricambiare il saluto Vabbè Dobbiamo comunque Possiamo salutare Anche i cittadini Che ci salutano Ok Abbiamo dato indicazioni giuste 10 punti Di esperienza Ragazzi abbiamo già fatto 320 punti Quindi non è male Abbiamo You discover New point Ah abbiamo sbloccato Qualche altro punto Quindi perché poi Se ci danno anche Perché bene Noi possiamo sbloccare i punti E poi Quando ci danno Ci vogliono indicazioni Possiamo dare indicazioni Al cittadino Comunque Madonna Oh peccato Che non c'è una volante Se non ti fermavo Ok È rosso ragazzi Dobbiamo fermare Salve Salve collega Buona Office del servizio Oggi Allora dove Dove ci hanno messo La schifania Questa Ok Raga Finiamo il turno Scriviamo il nostro Rapporto di fine turno Abbiamo fatto tanto E vediamo quanti punti Abbiamo accumulato Qualcosa abbiamo anche sbagliato Però Sicuramente ci toglierà Però sperando di aver Passato anche questo Questo distretto E raga 329 punti Superati Quindi siamo andati avanti Anche spiando il distretto E abbiamo sbloccato La nuova volante Signori Molto cacciuta Cazzo È sbloccato la volante Di questo distretto Per provare Ti bastereà la sessione Il turno in auto Quindi ragazzi Abbiamo sbloccato La volante Per questo distretto Per questo nuovo Quartiere Dove ci siamo trasferiti Abbiamo il gladiator 6 La volante Quindi ragazzi Tanta roba Poi abbiamo sbloccato Anche un nuovo quartiere Quindi ragazzi Il nostro Serans e Ali Sta facendo progressi Incredibili Nella carriera Da poliziotto Quindi ragazzi Tanta tanta roba Tanta roba Abbiamo 9 turni Quindi abbiamo sbloccato Un nuovo quartiere Vedete Pattulli in auto Abbiamo sbloccato Tutta questa zona Insomma E abbiamo anche fatto Livello 8 Qui stavamo a livello 7 Quindi stiamo andando Stiamo proseguendo Anche con la carriera Del nostro Aaron Non so Forse Fresco fresco di promozione Sarà Non so se Verrà promosso E che ragazzi Stiamo facendo tanta carriera Sperando Nel prossimo episodio Di avere anche un collega In multiplayer Ragazzi Quindi vi ho spoilerato Anche questa cosa Che saremo con un collega In multiplayer Quindi vediamo un po' Di fare anche questo Episodio E questo servizio Anche in due Vediamo un po' In due Come funziona Anche la cosa Quindi abbiamo sbloccato Ragazzi Un nuovo quartiere Con questo Con la pattuglia in auto Quindi una nuova Con una nuova volante Quindi non perdetevi ragazzi Veramente il prossimo episodio Con una nuova volante Con il nostro Aaron Seali Noi ragazzi Torniamo al nostro Menu principale Come sempre Dove ci salutiamo In tutte le serie In tutti i video Ragazzi Che dire Grazie a stati con me In questo video Si può fermare qui Ragazzi Grazie ancora A stati con me Spero il video vi sia piaciuto Questo poi Se mi metto Patronolfi Se andate avanti Anche oggi Ragazzi Grazie ancora Per il supportazzo Che mi state dando Ragazzi Spolliciate in su Condividete questo video Iscrivete al canale Attivate la campanina Per non perdere mai nulla In descrizione ragazzi Tutti i link sono gratuiti Non vi costa nulla Noi ragazzi Ci becchiamo nei prossimi video E live qui sul mio canale youtube O sul tubo viola Che ovviamente Troverete in descrizione ragazzi Se volete questo gioco Usate il mio link Di Isat Gaming Sempre sotto in descrizione O sulla piattaforma Steam Ragazzi Detto questo Un mega bacio Grazie ancora E buona fin settimana A tutti quanti